Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrelink e bentornati su Nazionale Vengo Galaxy, gli amichevoli più difficili. La scorsa volta ho vinto piuttosto velocemente le due amichevoli che mi si sono parate davanti, piuttosto semplici nonostante io abbia fatto un solo gol. Oh Andrelink, quanto si schiappa. E oggi, la prima partita che ci attende è Lama, affilata. Cominciamo. Loro hanno Axel come allenatore. Però Axel, diciamo, normale. Che cosa è questa squadra? Oh santo cielo! Hanno Byktor, hanno Vladimir, hanno Victor con Soji Okita, Victorion, mamma mia. Vladimir normale, quello era Vladimir fuso con Victor. Vladimir bambino, Victor bambino, Victor normale, impostore giustamente. Ombra 1 e ombra 10 perché hanno finito i giocatori! Cioè, presa 141. Anche fai Miximax e col Miximax ti prende una tecnica di parata. Non vedo dove è problema. Va bene, cominciamo allora. Ai ai ai. Io avrei Catora qui davanti, vorrei tirare con lei ma non penso di potercela fare. Sai? Ma andiamo subito qui. Ok. Lui fa così, io faccio falce rotante! Questa devo riassegnarla per far consumare meno punti. Consuma troppo, consuma. 99, la riassegno. È buona così. Mettiamo l'armatura. Andando in armatura, loro che fanno il totem... Sapete cosa? A me non preoccupa il totem. Me ne frego altamente del totem e tiro. Velocità... Ma chi se ne frega la velocità del totem? Deve essere un totem che para? Ragazzi, il totem! Proprio così il totem. Bella parè! Bella parè! Dai avanti, fammi 6.000. 1.585. Oddio, normalmente arrivo a 2.000 errotti con lo spirito guerriero. Quindi faccio gol comunque. Buona così. Oddio, non vorrei sbilanciarmi. Ma un paio di gol. Oh 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 oh, se li faccio. A te hai Grifbang. Ah, di quel tizio là, di Circulus, il circo. Lui ha 2, flagello nero. Sì, perché l'ho fatto in Miximax con l'altra sua parte che aveva comunque flagello nero. Io praticamente ho giocatori con 3 flagelli neri in squadra, che bello. Ma io voi chiamo Pedone Nero. Loro... Ah, loro anche hanno gli spiriti. Oh, Lancelot Omega. Lancelot Omega potrebbe essere un problemino, eh. Facciamo scontri. Guarda un po'. Attacco, vai. Ti attacco. Con la mia arma. Ma mi copi? Tu che fai? Attacchi. Vabbè, comunque vada. Ci finiamo l'armatura. Quasi. Quasi. Buono. Lui comunque si è consumato un bel po'. Tattica speciale? No, no. Non la uso. Connessione fulminia. Ma siete fissati con sta tecnica, voi? Perché con connessione fulminia è molto facile che tu possa fare... Neanche ci ha provato a fermarmi. Catora, tesorino bella. Niente. Il cavolo, tesorino bella. Tu sei stupida. Ok. Eh, però. Eh, però, amico mio. Eh, amico mio. Eh, qua c'è Spectrum, eh. Dovrei farcela in teoria. Sono forte con Spectrum, eh. Trivella infuocata. Buono. Ottimo. Sì, pedone nero... No, pedone nero non consuma tanto. Era plasma che consuma un botto di punti. E infatti volevo tirare proprio con lei. E... Cascata galattica? Colpo celestiale. Colpo celestiale? Oddio, a parte che non c'ha niente da... Da... Da elemento. Quindi mi arrangio. Mi sa che neanche le ho dato vento più, forse, alla fine. Perché non aveva tiri dai... Colpo... Due colpi critici, ragazzi. Ma che succede oggi? Mi stanno ripagando delle altre volte? Sarebbe assurdo. Ma possibile? O no? Forse il gioco si è accorto di essere stato un po' troppo duro con me. No, cos'è da quella posa, Catora? Mi diventi una idol? Non che ci sia nulla di male, eh. Dipende che tipo di idol. Io avrei Mark in porta, ma non mi ci spreco a fare... Non mi ci spreco lo spirito. Tanto ce l'ho Miximax, quindi... Buona così. Mi sta molto bene. Allora, Aitor. Noi abbiamo Mila Terrestre. Aitor, sì, l'ho strapompato per fare... Anche lui devo cambiare. Sì, devo rivedere i giocatori... E riassegnargli la tecnica. Anche la stessa, magari. Però... Con... Che consumi meno punti. Allora, evocchiamo un po' l'agello nero. È Omega? È livello 1. Ah, Omega? Eh, beh, sì, infatti. Sarebbe stato molto strano. Oh, io, io. Normale. Ok. Andiamo in armatura. Eccolo qua. Tiro in porta, raga. E... Cenere nera. Ragazzi, cenere nera è, credo, una delle tecniche mie preferite. Guardate. Tutto diventa nero. Come cenere che copre tutta la città. In questo caso lo stadio. Molto, molto bello. Oh. Grande, ragazzi. Sta squadra fa schifo perché è tutta quanta piena di attaccanti. Attaccanti di tiro, poi. Non attaccanti attacco e difesa. Solo tiro. Dato che in Inazuma Eleven ci sono dieci classi diverse. Fanno un pochino schifo. Cos? Pendragon. C'è la Vig... Ah, c'è la Vladimir. Va ancora a reclutare Vladimir, tra l'altro, io. Allora. Ha preso palla, quindi non è fuori gioco. Non ho niente attivo? E che cavolo? Nevochiamo Dragnova. Guarda quanto è bello Dragnova. Sarebbe tipo... Tipo Okami, però Drago. Dragnova. No, no, vado col... Con una tecnica mia. Supanoba. Supanoba. Eh, sì, questa era quella dell'Alius. Oddio, 1.6 col totem. Quanto faccio? Mille senza? Oddio, potrebbe anche pararla stavolta, eh. Tranquillamente. No, non l'ha parata. Buono. Che poi c'è gusto, non c'è gusto, perché sono attaccanti, loro, ma chi se ne frega. Basta che mi diverto a giocare e a vincere. Vai, re! È ancora tua! È ancora tua, re! Stavolta, sempre col tiro... Attica, guarda qua. Cioè, la cosa bella sarebbe stata se l'avesse fatta con Catora, perché Catora ha con sé Circulus. Poi, tra l'altro, abbiamo Roleia, o la Laia, come cavolo vi pare chiamarla, fusa con il padre. Si rincontrano due vecchi avversari. Eh, sarebbe stato stupendo. Però avevo più vicino Ganderas. Va bene, va bene. Giusto così tanto per fare un po' di lor, no? Molto, molto bello. 5-0, penso che posso anche stare, eh. Oh, ma tanto che ci sto col re. A sto punto, abilità totem. Tiro l'ive... Va bene, va bene, allora. Allora, mio re. Proprio vuoi farlo secco, eh? Vai! Sovrano, incontrastato! Buono, molto buono. 1.957. Il fatto che io possa fare 6-0 contro quelli che non hanno grandi tecniche in difesa è deludente. Ma comunque finisce qui. Bella, ragazzi. Finisce qui. 3 gol con Arculus. Che poi tra l'altro Arculus, che è il nome brutto che abbiamo dato nel doppiaggio, cioè nell'adattamento. Che gli hanno dato, perché mica solo colpa degli europei. Anche colpa dei giapponesi che danno nomi un po' così. Si chiama Acros. Arculus. Che è Arculus? Prossima squadra. Campioni extra. Surprise, mother... Oh! È per caso uno scherzo? Talisman. Quanto tipo... Oh, forte qui Talisman, eh? Voglio, lo voglio. No, Talisman mi piace davvero come giocatore. Vabbè, Nino non è un problema. Sarebbe il cantante dei T-Pistons. Miles... Difesa, 446. Questo è l'amico di Nathan, la porca miseria. Però dura superarlo. Andy, anche un buon difensore. Peabody, sì, è un portiere Peabody. Medi e forte. Kemushi, 475 di tiro! Camiseria, Kemushi. Che poi tra l'altro si chiama Kemushi, perché lui da piccolo schiacciava i bruchi. O almeno questo era quello che c'era scritto nella pagina di T-Pistons TV, eh? Ma è Nino, invece, nulla di che. Hanno diviso attacco e difesa, quindi mi sa che arriva a un buon attacco o a un buon tiro, comunque sia. Va bene, ragazzi, fare gol non sarà troppo facile. Non come prima, se non altro. Però... Tu vai sempre avanti. Attiviamo subito lo spirito guerriero. Perché io cerco di fare dei rinvii lunghi, no? Vai. L'aggello. Ok, perfetto. Loro col portiere vanno... Certamente che vanno col portiere, no? Oddio, qui la palla è lenta, mamma mia. Cavoli. Ok, Inno di Atena, livello 5. Grande idea, Atena. Invoca il tuo sapere e il tuo aiuto su questa partita. Maledetti! Bisogna praticamente qui prendere la palla al volo. Se non si prende la palla al volo, ragazzi, qui è tremenda. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Martello del deserto! Prenditi questa. Sbrettata di terriocce. No, fuori gioco, vero? Ma non l'ho toccata io! La presa è portiere! La presa è portiere! Ma... Ma... Ma vi pare possibile? Certo, qui proprio fanno gli sbruff... Sto dicendo, fanno gli sbruff... Oh! Ma insomma, fanno gli sbruffoni! Hai visto il portiere fino a dove è uscito? Ma questo è Shadow! Con chi sarà fatto il Miximax, lui? Oh, quanto... Eeeh, quanto! Ah, che m'uscì! Ah, pure lì c'è il Miximax, vabbè, certo. Sarebbe stato strano il contrario. Onda polifonica, ehi, è forte! Mi è forte, eh? Mamma mia! Allora, potrebbe essere... No, che fanno connessione fulminea? Ma che... Che palle! Basta con sta tecnica! È cinque partite che mi fate connessione fulminea! Non ne posso più rivederla! Tanto non riescono mai a farla! Prima l'hanno sprecata perché... Oh, cavoli! Dicevo, prima l'hanno sprecata perché la palla la teneva solo uno. E io l'ho rubata tipo quasi subito. Non l'ha mai passata. Eeeh, sì, vabbè! Che cavolo è? Ma dai, ma siamo seri? Certo, però questi con i passati... No, fuori gioco un'altra volta. No, no, no. Preferisco che la prendeva lui la palla e il portiere. Piuttosto che farla andare in... In fuori gioco. No, no, no. Oddio, un po' troppo... Non è anche attacco progressivo. Ma cos'è? Ma cosa sono questi? Freccia plasma! Freccia plasma! Freccia plasma! Stinghiti! Buono! Subito al tiro. Eeeh, ragazzi, purtroppo ho sbagliato, ma... Andiamo con... Con il... Con l'elemento. Oh, non mi esce mai la parola elemento. Non mi... Oddio, però. Non male, eh. Però mi sa che ce la para. Eeeh... Oh, mio Dio. A parte che c'è il totem e non l'ho mai disattivato. Da stupido che sono. Mamma mia. Anche meno, eh. Vai, Tescat! Occhio del ciclone! Bravissimo, Tescat! Vabbè, questo qui l'abbiamo visto 514.000 volte. Andiamo... Non con l'armatura. Andiamo, dicevo, con lo spirito guerriero. Adesso vado in armatura. In modo da essere più veloce. E da tirare... Guarda... Oh, ragazzi, però io non capisco una cosa. Questo stava qui. Ti ha fatto uno scatto in qua? Io devo capire come fanno. Allora, prima sono voluto andare di elemento. Io batterei il tipo vento con cenere nera. Però... Voglio divertirmi. Spero Magnum. Voglio assolutamente farla così. Vai! Oddio, 1968. Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Sono uno sciocco! Sono uno sci... Scusami. Ma è uno spirito guerriero? Ah! Allora... Re! 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 Allora... Supernova. Non è da elemento, però... È tipo albero, quindi contro una tecnica di tipo vento dovrei vincere. Giusto? Vince l'elemento. Ma conta qualcosa qui l'elemento? 2383? Conterà qualcosa qui l'elemento? Io non credo! E infatti non conta! Non conta nulla l'elemento qui in questo gioco. Non conta proprio nulla. Vi ho detto dovete scappare quando vedete me! Vai Pelion! Mio dio Pelion! Cioè, mio dio, virgola Pelion. Non mio dio Pelion. Precisiamo. Grande falce rotante. Falce rotante. Falce rotante. Falce rotante! Dai! Urlo dell'Eden! Se non faccio gol ora... Non lo so quando lo faccio. Dai! Dammi un bel tremillino. So che puoi farcela. So che puoi farcela! Col 3125! Eh, sì, sì. Vai con l'armatura. Gnomo. Uomo dalla forma gnomica. Sì, ma è una diluce doppia. Ahahahah! 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 Gol! Questo è gol. Niente, Wolfram in questa partita volevo metterlo prima. Però... Niente, ragazzi. È andata così. Wolfram giocherà la prossima, dai. Tornerà anche Biketor. Niente, mamma mia, proprio gli oggetti qua, proprio, eh. Proprio... Braccino corto, lezzo, unto. Madonna, ragazzi. Non ho più niente. Zero. Mi odiate proprio. Colpo critico. Dopo che ne ho droppate 300 da Sandorias, vero? La prossima partita sancirà la fine di questi amichevoli e siamo al castello di Re Artù. Per fortuna divina, quale grazia divina mi concede questa opportunità di non stare su un campo dove la gravità fa schifo al palle. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video in descrizione, link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre. Al prossimo video. Bye bye. Bye bye.